Che 2024 ci aspetta? Quali saranno i principali eventi attesi per l'anno appena iniziato? Dopo l'episodio speciale sulle migliori notizie del 2023, vediamo quali saranno invece quelle più attese per il 2024. Gli ultimi anni ci hanno insegnato che le notizie che più cambiano il corso degli eventi sono quelle inattese e impronosticabili, ma possiamo dire fin d'ora che comunque nel 2024 ci saranno diversi eventi importanti, dalle elezioni negli Stati Uniti, in India e nell'Unione Europea, alla riscrittura del codice ambientale in Italia, a diversi altri appuntamenti. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 5 gennaio 2023 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di tale che cambia. Sigla! La prima cosa che vi dico sul 2024 è che sarà un anno di elezioni importantissime. Andranno al voto circa 3 miliardi di persone nel mondo per eleggere i propri governi. In particolare si voterà nelle due più grandi democrazie del mondo, grandi intese come numerose proprio, ovvero India e Stati Uniti, si voterà in Unione Europea, si voterà in Russia, in tanti paesi africani, e quindi, diciamo, forse la cosa più interessante è fare, iniziare perlomeno con una panoramica su quelle che realisticamente saranno più presenti sui media nel corso dell'anno, andando banalmente in ordine cronologico e poi dopo vi faccio anche una così piccola panoramica su tutte le altre elezioni rilevanti che ci sono nel mondo. Rilevanti poi, vabbè, diciamo dal punto di vista giornalistico perlomeno. Partiamo con quelle in Russia, che sono le prime, si vota il 17 marzo. Sono elezioni importanti, anche se con poca suspense, a meno di enormi colpi di scena, perché la rilezione di Putin, che ha già annunciato la sua ricandidatura, appare abbastanza scontata. Peraltro la Commissione elettorale centrale russa ha già respinto la richiesta della candidata pacifista e Caterina Dunzova di partecipare alle elezioni presidenziali citando errori nei documenti presentati dalla stessa candidata, che è un ex giornalista e ex consigliera comunale e che conduce una campagna per la democrazia e la fine dell'offensiva in Ucraina. Quindi, insomma, gli elementi citati sembrano abbastanza, anzi direi molto pretestuosi. Poco dopo, fra aprile e maggio, arriva invece il voto in India, che ha considerato un banco di prova importante per Narendra Modi, che è il leader conservatore e, fra i principali fautori del carbone, indiano. Scusate il rassunto brutale, ora magari diciamo due parole in più. Il voto indiano è importante per molti motivi. Innanzitutto è la democrazia più numerosa al mondo, ma anche di gran lunga, perché, secondo le stime, fra l'altro l'India è da pochi mesi il paese più popoloso al mondo, dopo aver superato la Cina con circa 1 miliardo e 429 milioni di abitanti stimati. Ci sono quasi un miliardo di persone iscritte alle liste elettorali che andranno a votare, quindi circa un ottavo della popolazione globale va al voto solo in India. Ed è una roba abbastanza impressionante. L'India è anche una delle economie in più rapida crescita del pianeta, una delle più inquinanti e riveste un ruolo chiave anche nei BRICS, ovvero quell'alleanza di paesi dalle economie cosiddette emergenti, che poi in realtà sono emerse già da un bel po' e che vogliono in modi diversi cambiare l'ordine mondiale. Modi è uno degli animatori di questa strana alleanza non-alleanza che coinvolge oltre a Modi Putin, Xi Jinping, Lula, il presidente sudafricano Cyril Arrampagosa, il principe editiero saudita Mohammed bin Salman, il presidente egiziano Al-Sisi, poi di recente è entrato anche l'Iran e altri paesi nell'alleanza. Quindi ecco, capire chi guiderà l'India per i prossimi cinque anni è molto significativo. E anche qui Modi è dato come sfavorito, ma non è così scontata la sua vittoria in questo caso. Arriviamo poi a giugno con le elezioni europee alla decima edizione, giunte la decima edizione. Anche qui ci sono molte cose in ballo, come abbiamo raccontato più volte, l'Unione Europea pur con le sue contraddizioni sta facendo cose molto interessanti dal punto di vista della transizione ecologica. In particolare la direzione del Green Deal affidata a Franz Dimmermans è stata abbastanza solida e quindi ci sarà da capire se l'attuale conformazione parlamentare sarà più o meno mantenuta o sarà completamente stravolta. Un'indicazione importante poi sarà anche l'affluenza, la partecipazione al voto, che ci dirà quanto i cittadini e le cittadine europee ritengono importante l'Unione e se la volontà di andare avanti insieme prevarrà sui singoli interessi nazionali. Perché l'Unione Europea viene da anni difficili in cui la pandemia, l'invasione russa dell'Ucraina, la crisi energetica, il conflitto fra Israele e Hamas hanno mostrato grossi limiti. E come scrive Gian Piero Gramiglia sul Fatto Quotidiano, sul fronte ucraino è sostanzialmente unita ma è sdraiata sulle posizioni atlantiche, cioè americane, non ha autonomia perché non ha la forza militare adeguata, in Medio Oriente è frammentata e Israele le riconosce solo il ruolo di pagare per la ricostruzione di infrastrutture che si arroga il diritto di ridistruggere. Quindi ecco, questa è un po' la situazione, diciamo che sul fronte della politica internazionale l'Unione Europea è ancora abbastanza debole e acerba. La mia sensazione è che di fronte a questo stallo barra frammentazione si possa fare un passo avanti oppure un passo indietro. E quindi vedremo quale spinta prevarrà e la racconteremo. A fine anno arriveranno poi forse le elezioni più attese, quelle di cui perlomeno paradossalmente si parlerà di più anche in Italia, anche in Europa, ancora più di quelle europee realisticamente, ovvero quelle americane. La campagna elettorale di USA 2024 segnerà tutto l'anno e condizionerà, potrebbe pure paralizzare, anche l'attività diplomatica internazionale. Infatti diversi attori che presumibilmente per diversi motivi appoggeranno la candidatura di Trump, come Putin o Netanyahu, probabilmente tenderanno a temporeggiare fino al voto sperando di poter strappare accordi più favorevoli qualora venisse eletto Trump. Trump che ovviamente deve passare per le primarie repubblicane, anche se, insomma, diciamo, sembra abbastanza scontato la sua vittoria, e che poi è sotto diversi processi con alcuni stati che non hanno neanche accettato la sua candidatura alle primarie e quindi ci sono un po' di variabili. Cioè nonostante, allo stato attuale, tutto lascia presagire che i due candidati dei maggiori partiti saranno Joe Biden, democratico, e Donald Trump, repubblicano. Ma appunto ci sono comunque delle incognite. Su Trump proprio quelle giudiziarie più che politiche, su Biden invece sono principalmente anagrafiche, perché avrà quasi 82 anni se qualora venisse riletto, oltre a dei tassi di approvazione molto molto bassi che preoccupano un po' l'establishment democratico. Comunque, oltre a queste, ci saranno anche diverse altre elezioni importanti nel mondo. Tornando in Europa, in primavera si vota nel Regno Unito e in Portogallo, a giugno in Belgio e in autunno in Austria. A giugno si vota anche in Messico per le presidenziali e per la prima volta nella storia messicana le due principali candidate dovrebbero essere due donne. Altre elezioni importanti saranno quelle di Taiwan, a brevissimo, si vota il 13 gennaio, un voto molto atteso perché segnerà il futuro delle relazioni fra Taiwan e la Cina, e in Iran, dove sarà rinnovato il Parlamento, probabilmente in continuità con l'attuale regime, e poi anche in Bielorussia, altro governo molto, diciamo, filo russo, filo putiniano. Anche il volto dell'Africa potrebbe essere ridipinto da questo anno con elezioni in paesi chiavi come Tunisia, Sudafrica e Algeria, Chad, Ghana, Mauritania, Maurizius, Mozambico, Namibia, Ruanda, e con l'Egitto che invece ha votato da poco il 18 dicembre ed ha riconfermato senza grosse sorprese al Sisi. Va bene, fine della panoramica di elezioni nel mondo. Un altro evento su cui sicuramente i giornali si soffermeranno e daranno risalto è il G7 che si terrà a giugno dopo il voto europeo. Il G7 è quel summit di dialogo informale che riunisce sette paesi dalle economie molto industrializzate, che nello specifico sono Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, a cui poi si aggiunge l'Unione Europea. E suppongo che i giornali ne parleranno molto in Italia perché sarà ospitato in Puglia. Non si sa ancora bene dove, ma qualche indiscrezione fa ipotizzare che non sarà in città, ma in un luogo che sia più facile da gestire dal punto di vista della sicurezza e che poi sia anche in mezzo alla natura, al verde, alle bellezze della Puglia. Così ha lasciato intendere la Premier Giorgia Meloni quando ne ha parlato, senza però dire dove sarà esattamente. A fine anno, sempre fra novembre e dicembre, ci sarà poi la COP29, il tradizionale appuntamento con la conferenza sul clima in cui si dicono un sacco di cose e poi si fa quasi niente. Questa volta ad ospitarla sarà Baku, la capitale dell'Azerbaijan, un altro grande produttore di petrolio e gas. Osservo che però le conferenze delle parti sul clima stanno discutendo sempre meno interesse da parte degli addetti al settore, in quello che mi sembra un sintomo non tanto di un disinteresse per la questione climatica, tutt'altro, ma del non aspettarsi più che arrivi qualcosa di interessante da questo tipo di processo. Comunque noi lo seguiremo, ovviamente. In Italia, sulle tematiche ambientali, ci sarà invece da seguire una roba parecchio importante perché, come vi raccontavo qualche mese fa, è stata nominata una commissione ministeriale piuttosto discutibile incaricata di riscrivere il codice ambientale che, insomma, sono tutte le norme che riguardano l'ambiente. È una cosa molto importante e impattante anche dal punto di vista del diritto giuridico e quindi seguiremo molto da vicino la faccenda anche per i menuni teorari che non vengono fatti degli abomini come un pochino potremmo anche temere. Oltre a ciò, posso già dirvi che continueremo a seguire alcuni filoni che caratterizzano da sempre questo format sicuramente la crisi climatica ed ecologica sia negli aspetti negativi, quindi raccontando anche le evoluzioni inevitabili di queste crisi, gli inevitabili eventi estremi, ma seguendo anche gli sforzi di adattamento delle società nel mondo e i tentativi di mitigazione, di conservazione e di ripristino. Seguiremo poi il tema dell'intelligenza artificiale che sta diventando sempre più centrale nelle nostre vite, generando aspettative, speranze, ma anche paure. E seguiremo l'evoluzione delle varie guerre nel mondo, non solo quelle in Ucraina e a Gaza, ma anche quelle di cui nessuno parla, raccontando come evolvono e anche se e quando si risolvono, finiscono, perché le guerre finiscono e spesso neanche si dà la notizia. Infine, fra gli appuntamenti imperdibili di questo 2024, lasciate che vi ricordi, ve ne ricordi uno nostro, ovvero la prima edizione della Scuola di giornalismo ambientale, costruttivo e digitale di Italia che cambia, che si terrà fra aprile e maggio 2024. Ha un programma davvero incredibile, sia come docenti, sia come argomenti trattati, dateci uno sguardo, trovate il link sotto fonti e articoli, penso che, insomma, ne vale davvero la pena. Bene, che dire, dal lunedì ricominciamo con gli appuntamenti quotidiani, con la rassegna, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 8 su YouTube, sulle principali piattaforme di podcasting, nonché sulla pagina rassegna stampa e la recambia.org. Buon 2024, voi mi raccomando, state bene, fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto.